Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha debutato in teatro con Tony Servillo. Vincendo per il Misanthropo di Moliere il premio della critica come migliore attrice. Ha collaborato a lungo con il gruppo Teatri Uniti. Sempre in teatro ha lavorato con Leo De Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Federico Tiezzi, Emma Dante, partecipando a spettacoli tra i più premiati dalla critica negli ultimi anni. Dopo alcune parti minori, al cinema interpreta Libera di Pappi Corsicato, con cui ha lavorato anche nei Buchi Neri, I Vesuviani e Chimera. Sempre al cinema ha lavorato con Maurizio Nichetti, Marco Ferreri, Tonino De Bernardi, Mario Martone, Renato De Maria e Marco Risi. Ottenendo due nastri d'argento e un premio Sacker come migliore attrice protagonista. Di recente ha preso parte al progetto Domani di Luca Ronconi in occasione delle Olimpiadi della Cultura Torino 2006. Recitando in Troilo e Cressida di Shakespeare e nello specchio del diavolo di Giorgio Ruffolo. Parallelamente al lavoro con registi italiani, Iaia Forte, insieme con Clara Gebbia, lavora a progetti ideati e prodotti dalla compagnia Teatro Iaia. Ha interpretato la parte di Trumone e la grande bellezza. 2013, di Paolo Sorrentino. Grazie a tutti.